Dopo i grandi successi delle precedenti edizioni, torna dal 5 al 7 agosto a Borgata Costiera di Mazzara del Vallo la quarta edizione della festa del pane e della pasta, della civiltà contadina e della tradizione cerealicola. Mostre e mercato, degustazioni, street art, sport, spettacoli itineranti nei vicoli della Borgata e tante risate con i grandi comici siciliani. Il 5 agosto Totti e Totino, il 6 agosto Massimo Spata e Francesco Scimemi, il 7 agosto Ernesto Maria Ponte. Saranno inoltre assegnati i premi sull'Anadoro 2018 da Un'idea di Francesco Foggia con la consulenza storica del professore Danilo Di Maria. Festa del pane e della pasta 2018. Vi aspettiamo dal 5 al 7 agosto a Mazzara del Vallo a Borgata Costiera. Stand degustativi Arte e Gusto, aperti dalle 18 alle 24. Presentano Alessia Belluomo e Alessandra Alamia, organizzazioni UNAC, con la collaborazione della Proloco e il patrocinio della città di Mazzara del Vallo e dell'Assemblea regionale siciliana. Radio Ufficiale Radio Attilità. Grazie a tutti.